Si chiama Toscana Terra Etrusca il nuovo prodotto turistico omogeneo regionale presentato dall'assessore al turismo della regione toscana Stefano Cioffo nell'ambito di turisma, il salone del turismo legato all'archeologia a Firenze. 34 comuni toscani si sono aggregati, come previsto dalla legge regionale sul turismo, per valorizzare insieme i tratti distintivi di una vasta parte di Toscana che si caratterizza per le tracce ancora vive lasciate dal popolo etrusco. Rappresenta un insieme vasto di territorio della Toscana centrale ma soprattutto in questa fase parte da Chiusi come comune di riferimento, quindi la Toscana Sud che racconta la sua eccellenza, racconta il suo territorio, racconta le presenze significative della storia etrusca. La regione ha messo a disposizione 35.000 euro per agevolare l'aggregazione dei comuni nel prodotto turistico omogeneo Toscana-Terra Etrusca che comprende 7 degli ambiti turistici nei quali è stato suddiviso il territorio regionale.